Una raccolta solidale di farmaci da donare a chi è più in difficoltà. Le otto farmacie comunali di Arezzo torneranno infatti ad ospitare la giornata di raccolta del farmaco per il secondo anno consecutivo. L'iniziativa prevede la possibilità di acquistare prodotti da banco e medicinali senza obbligo di prescrizione che saranno consegnati alle realtà locali che offrono cure e supporto a chi è più in difficoltà. Da martedì 9 fino al 15 febbraio, dunque, le otto farmacie comunali di Arezzo saranno impegnate in una campagna di sensibilizzazione e di informazione relativa alle categorie di farmaci di cui è maggiore il bisogno sul territorio cittadino per permettere così una donazione realmente utile. L'attuale emergenza sanitaria ha infatti ulteriormente acuito le difficoltà economiche di molte persone e famiglie aumentando le situazioni di marginalità e povertà. Dunque, l'obiettivo della giornata di raccolta del farmaco 2021 è di migliorare i buoni risultati raggiunti lo scorso anno quando in 5.000 farmacie in tutta Italia sono stati raccolti 541.175 medicinali di cui hanno beneficiato oltre 429.000 persone. L'ultimo anno, commenta Francesco Francini, presidente delle farmacie comunali di Arezzo, ha indubbiamente inasprito le difficoltà vissute da molti nuclei familiari. Dunque, questa settimana rappresenta un'occasione per portare un reale aiuto al prossimo. Lo slogan della campagna dice che nessuno deve più scegliere se mangiare o curarsi. Con il contributo di tutti, conclude, è possibile muovere un altro passo verso questo importante obiettivo.